Non tenendo conto dei maggiori trofei italiani, il Palermo ha un totale di 23 trofei, considerando anche quelli soppressi nel primo periodo calcistico. Infatti il Palermo dopo Roma, Napoli e addirittura più del Cagliari ha vinto 5 campionati di Serie B, 1 Coppa Italia di Serie C, 1 Campionato di Prima Divisione, 1 Campionato di Serie C, 2 Campionati di Serie C1, 1 Campionato di Serie C2, 1 Campionato di Serie D, 2 Wittaker Challenge Cup, 5 Lipton Challenge Cup, una Coppa Pasqua Trofeo dei Mille battendo 2-1 la Lazio, una Coppa Federale Siciliana, un Campionato Siciliano e infine un Torneo di Tunisi battendo 3-1 i Rangers del Marocco, all'epoca i più forti nel loro campionato di competenza. Inoltre il Palermo è la prima squadra del Mezzogiorno d'Italia e sesta per anzianità tra i club oggi attivi.